Sono Fifei a Beijing. Meng Haoran era un poeta della dinastia Tang, nodo per la sua abilità nel descrivere paesaggi e scene pastorali. Un giorno fu invitato da un amico a casa sua. Il poeta rimase affascinato dalla bellezza circostante. I due amici trascorsero una giornata meravigliosa, sorseggiando e chiacchierando insieme. L'amico ha preparato Polo Emilio, invita a casa sua in campagna. I verdi alberi circondano il villaggio. Un monte azzurro si allunga al di là delle mura. La finestra aperta guarda laia e all'orto. Bevendo il vino discorriamo di gelsi e di canapa. Quando arriverà il nono giorno del nono mese, ritornerò a vedere i fiori di Crissandemo. 我在全世界为你读诗, 同你一起诗约万里.